il libro è del 2020 o 2019 2020 ok siamo online grazie Bene, possiamo incominciare. Bene, benvenuti a tutti i nostri relatori, un grazie in particolare a ciascuno di voi per aver accettato l'invito a partecipare a questo webinar e grazie a chi si è collegato e si sta collegando. L'incontro di oggi nasce in collaborazione con l'Università di Trento e il CESPI, il tema è l'Iran, sfide interne e politica internazionale. Abbiamo deciso appunto in occasione, prendendo spunto dalla pubblicazione del libro Contemporary Domestic and Foreign Policies of Iran, aprire una finestra di analisi e di dibattito su questo paese, sempre più centrale nelle dinamiche regionali del Medio Oriente e in dinamiche internazionali, per cui ci sembrava importante andare a capire come ciò che sta accadendo all'interno di questo paese si è riflette poi su quelle che sono le dinamiche internazionali, questo sempre nell'ottica che appunto ciò che accade in un paese è sempre più a riflessi all'interno della politica estera e del collocamento di un paese nello scenario internazionale. ci guiderà un po' in questo dibattito il professor Michele Nicoletti dell'Università di Trento che collabora col CESPI e coordinatore anche dell'Osservatorio dei Diritti Umani e niente, ringraziando ancora tutti, ci auguriamo un buon lavoro e passo la parola a Michele. Grazie al direttore Frigeri e anche da parte mia un benvenuto a tutte e a tutti e un ringraziamento ai nostri relatori e relatrici per questo incontro di riflessione sull'Iran. Come ha detto il direttore si tratta di un paese non solo interessante per il ruolo che svolge all'interno di una regione particolarmente delicata ma anche per i rapporti importanti e significativi che ha con il nostro paese, con l'Italia e quindi ci sembra interessante dedicare un'attenzione sia appunto a ciò che sta avvenendo, le dinamiche che caratterizzano questo paese, soprattutto anche in considerazione dei mutamenti della politica internazionale, quindi della nuova presidenza degli Stati Uniti d'America. Penso che sarà un tema anche questo di riflessione dei nostri ospiti e naturalmente cercare di capire poi cosa si muove all'interno delle istituzioni ma anche della società civile e capire poi anche come dal nostro punto di vista, cioè dal punto di vista italiano, questo paese viene visto, viene considerato sia nel mondo dell'informazione che nel mondo economico e politico. Abbiamo un bel panel di esperti qui raccolti che io adesso passo a presentarvi, sono il professor Giampiero Kama che è professore ordinario di scienza politica all'Università di Genova e il professor Pejiman Abdul-Mohammadi, professore di storia dei paesi islamici all'Università di Trento che sono entrambi autori di questo libro importante che è uscito nel 2020 da Paul Grave dedicato esattamente alla politica interna ed estera dell'Iran e che appunto siamo contenti di poter accostare tramite la viva voce degli autori perché da quando è uscito ha suscitato una notevole discussione nella comunità accademica e anche tra gli osservatori politici e quindi è diventato uno strumento importante di comprensione. Abbiamo poi Rassa Gaffari che è una giovane studiosa di sociologia e specialista di società civile iraniana, un settore che conosce bene anche non solo per ragioni di origini familiari ma perché ha lavorato sul campo su questioni anche legate alle differenze di genere e così via e ci sembra questo un punto di vista molto importante perché società civile in Iran ha svolto un ruolo importante e tuttora è un elemento chiave e poi Viviana Mazza che è giornalista del Corriere della Sera e esperta come inviata speciale in Medio Oriente profonda conoscitrice della società iraniana oltre che di tutti i suoi rapporti con gli altri paesi del Medio Oriente che ci aiuterà a leggere quella situazione in relazione anche alla nostra situazione concluderà poi i lavori dell'onorevole Piero Fassino che è Presidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputati che ha una vasta esperienza di politica internazionale e ha ricoperto ruoli istituzionali importanti sia a livello italiano che europeo nella politica estera. Vorrei dare la parola prima al professor Giampiero Cama che è un esperto di studi anche sulla politica comparata e quindi un esperto di istituzioni, un esperto di democrazia e un esperto anche di regimi ibridi un termine che è stato utilizzato anche a proposito dell'Iran a cui vorrei chiederci appunto di aiutarci a entrare nel tipo di sistema istituzionale che caratterizza l'Iran e lo farei rivolgendo anche una domanda un po' provocatoria sia a lui che al professor Abdelmohammadi e anche alle nostre altre relatrici, Henry Kissinger, uno dei più notti studiosi di politica internazionale e accanito sostenitore del sistema Vespaliano nel suo libro sull'ordine mondiale dedica proprio un capitolo agli Stati Uniti e l'Iran, concezioni dell'ordine e ritiene che l'Iran rappresenti una sfida non solo per il suo potenziale pericoloso nell'area conosciamo bene la posizione americana ma perché vede nell'Iran addirittura il portatore di un ordine mondiale alternativo e quindi Kissinger appunto si chiede appunto qualunque volto l'Iran presenti al mondo esterno, l'Iran deve compiere una scelta, deve decidere se essere un paese e quindi agli occhi di Kissinger rientrare in un sistema Vespaliano più o meno equilibrato o se invece essere una causa cioè essere portatore di un sistema alternativo e vorrei chiedergli appunto come reagisce di fronte a questa interpretazione di Kissinger di cui forse diciamo l'Iran sarebbe anche contento e orgoglioso in un certo senso prego professor Kama e grazie di essere con me sono io che ringrazio voi, ringrazio il Cespi, è una bellissima occasione per conoscervi sono veramente orgoglioso e grazie per l'occasione che mi date per presentare insieme a mio collega carissimo Peschman questo nostro lavoro ma anche per confrontarmi con voi persone che hanno un'esperienza sia accademica che politica di altissimo rilievo e la sua domanda sa che è proprio bella perché io ho fatto spesso anche col collega Peschman un paragone tra la rivoluzione comunista e la rivoluzione d'ottobre cioè che si ponevano entrambe come capostipide di un rivolgimento più ampio la rivoluzione d'ottobre non era limitata solo alla Russia era un esempio imitabile, una specie di faro rispetto a tutto il movimento socialista e comunista internazionale un esempio da emulare, era un paese guida io credo che effettivamente l'Iran si sia posto dopo la rivoluzione comunista come paese guida di una rivoluzione teocratica, islamica e quindi rappresenta un punto di riferimento il cui destino può determinare davvero anche il destino forse più ampio dell'islam politico perché come è successo per il comunismo reale la caduta o le sfortuni del comunismo sovietico ha avuto un impatto notevole anche sul movimento comunista internazionale sia in positivo che in negativo quindi credo che sia giusto cioè la rivoluzione comunista non si è limitata a contenersi comunista dentro l'Iran ha avuto sempre l'ambizione di esportare un modello di rappresentare il paese guida da questo modo di vista credo che Kissinger non so se è d'accordo anche Pesce ma penso di sì ne abbiamo parlato qualche volta ha ragione, ha intuito un aspetto cruciale e quindi i destini della Repubblica Islamica e dell'Iran hanno una portata che non si limita a quel paese e nemmeno solo al Medio Oriente in senso stretto a mio avviso quindi sono d'accordissimo su questa asserzione oltretutto come cercherò di dimostrare l'Iran è anche interessante perché è un paese veramente affascinante dal punto di vista di uno studioso di politica perché è un modello di regime francamente come diciamo noi abbiamo scritto in un articolo veramente peculiare che ha delle caratteristiche quasi uniche perché i regimi ibridi ce ne tanti quei regimi che sono un po' a metà tra la democrazia e l'autoritarismo che non sono pienamente né autoritari in senso stretto sono basati su un partito unico al potere o su una dittatura personale non si può dire che l'Iran è questa cosa qua e non si può nemmeno dire ovviamente che sia un regime pienamente democratico e quindi è quel classico tipo di sistema che si pone in una via mediana con delle caratteristiche però diverse rispetto ad altri regimi ibridi come sono la Russia attuale di Putin come la stessa Turchia di Erdogan e così via e quindi noi abbiamo esaminato in questo lavoro in primo luogo le caratteristiche distintive di questo regime che sono molto interessanti anche perché al di là del valore intrinseco della curiosità legata a questa peculiarità della Repubblica Islamica c'è anche un riflesso noi adottiamo un punto di vista per il quale è stato ribadito anche in questa sede all'inizio in sede di presentazione come quello che accade in un paese importante come l'Iran ha effetti anche più ampi sul sistema internazionale nel quadrante regionale medio orientale ma anche più in generale sugli assetti sulla stabilità del sistema internazionale più globale quindi è interessante studiare in sé l'Iran perché è un laboratorio politico veramente molto interessante per i comparatisti, per i studiosi di politica ma è anche interessante perché ecco ciò che avviene all'interno dell'Iran ha dei riflessi molto importanti per la comunità internazionale quindi io mi occuperò prevalentemente degli aspetti scusate scusate sono già nella conferenza scusa no no quasi quattro e mezzo scusate scusate ciao ciao scusate ma perché pensavo che fosse un'emergenza quindi c'è questo duplice aspetto tra l'altro la prospettiva teorica che adottiamo che è neoclassica cerca di individuare anche i rapporti tra la politica domestica e la politica estera di un paese cioè un paese non sviluppa la sua politica estera sulla base solo dei vincoli delle opportunità del sistema internazionale ma sviluppa un disegno una strategia di politica estera anche sulla base delle sue caratteristiche interne quindi per capire l'Iran e la sua politica estera è anche importante capire i processi interni di questo paese che sono molto complessi e articolati anche questo è un aspetto peculiare per un regime autoritario anche se ibrido come la Repubblica Islamica quindi andando con ordine noi abbiamo in primo luogo sottolineato la natura ibrida dato due punti di vista una organizzativa e procedurale e una simbolica dal punto di vista procedurale e organizzativo la Repubblica Islamica è ibrida perché da un lato combina elementi secolari con elementi clericali e religiosi perché a prima vista l'Iran potrebbe sembrare una teocrazia a pieno titolo a tutto tono in realtà non è proprio così il suo assetto istituzionale divide una componente predominante a dire il vero clericale con a capo la guida suprema e gli organi in qualche modo da lui controllati diretti che in qualche modo garantiscono la stabilità e l'ortodossia del regime ma c'è anche una componente più secular che è rappresentata dal Parlamento e dalla Presidenza della Repubblica questa è un'eredità della rivoluzione perché la rivoluzione comunista vedeva all'inizio una alleanza di forze da un lato clericali e religiose dall'altro anche però secolari con partiti laici che in qualche modo hanno contribuito al ribesciamento dello sciar e questa eredità originaria è rimasta anche se con una predominanza della componente religiosa e clericale c'è anche una parte delle istituzioni che rappresenta la società civile e rappresenta istanze più laiche o comunque secolari e non pienamente religiose quindi non c'è un totale dominio della parte religiosa e clericale dal punto di vista istituzionale d'altro canto il regime della Repubblica Islamica è ibrido perché contiene elementi anche genuini di competizione politica seppur limitati cioè esiste una competizione politica che non riguarda solo diciamo i seggi parlamentari come è tipico anche di molti architettini autoritari che concedono uno spazio di pluralismo però nel contesto delle assemblee legislative in cui i notabili delle località dei comuni delle diverse zone di un paese si fanno rappresentare e rappresentano interessi locali sviluppando politiche clientelari legate alle proprie costituzioni questo è tipico anche di altri sistemi come quello siriano ad esempio la natura peculiare della competizione limitata del pluralismo politico limitato della Repubblica Islamica è un'altra cioè esiste una competizione seppur nell'ambito di una cerchia ristretta di candidati per un ruolo esecutivo molto rilevante che è la presidenza della Repubblica non esiste credo al mondo oggi un regime sistema tendenzialmente autoritario che preveda una competizione relativamente aperta all'interno delle elite dominanti del regime che rappresentano fazioni tra di loro in contrasto in conflitto è come se per esempio nella Repubblica Popolare Cinese le diverse fazioni del Partito Comunista si contendessero diciamo le posizioni apicale attraverso elezioni a suffragio universale questa è una cosa veramente sorprendente non è un regime partito unico non è un regime pubblicitario che impalma un leader carismatico alla Chavez per esempio è un sistema in cui c'è una competizione tra capi di diverse schieramenti politici conservatori riformisti e così via che in modo anche palese e genuino competono per una carica esecutiva che ha un ruolo significativo non è pari a quello della Guida Suprema ma che comunque svolge ruoli politici incisivi sia in politica interna che in politica estera questa genuinità dimostrata da due aspetti i leader che si contendono alla presenza della Repubblica rappresentano interessi genuini e contrapposti sociali ed economici cioè alle spalle dei leader e degli schieramenti ci sono interessi corposi che si confrontano per esempio sull'apertura o meno dell'Iran all'economia internazionale o sugli aspetti più o meno statalisti delle politiche pubbliche e così via sul ruolo del welfare state ci sono candidati come Ahmadinejad che hanno perorato un populismo economico simile a quello di certi stati dell'America Latina altri schieramenti invece sono più orientati a riforme diciamo più liberiste in termini di economia di mercato e così via quindi c'è un confronto genuino tra posizioni diverse che è palese e trasparente e questa genuinità si esprime anche attraverso un dibattito pubblico a talvolta molto aspro molto simile a quello che avviene nelle liberal-democratizie di stampo occidentale grazie a Pechman io ho assistito a un dibattito politico alla televisione iraniana dove effettivamente si confrontano anche con scambi molto duri le posizioni dei partiti e dei leader per delle forze politiche e dei leader in modo che è analogo a quello che avviene nelle campagne elettorali e delle democrazie occidentali c'è anche una dimensione ideologica nella quale emerge la natura ilida del regime e anche questo è interessante i principi di legittimità del regime sono seguendo la tripartizione weberiana di tutti e tre tipi c'è una legittimità tradizionale legata al ruolo che c'è sempre stato del clero in Iran quindi c'è il clero iraniano si fonda su una base di una legittimazione tradizionale secondo la tripartizione weberiana poi c'è anche un'eredità della carisma di Khomeini cioè all'inizio c'era una base carismatica del potere legata diciamo all'esercizio del potere sin che è stato in vita di Khomeini che in qualche modo si è tramandata anche nella carica come è successo nella chiesa cattolica il carisma dei fondatori poi si è in qualche modo istituzionalizzato anche nelle cariche supreme quindi c'è un qualche residuo di legittimità carismatica e poi c'è anche come tipico degli stati moderni una legittimità di tipo legale razionale legata alle stanze repubblicane parlamento presidenza delle repubbliche e così via in quanto i leader diciamo di queste istituzioni presidente e parlamentari sono legittimati su una base di procedure legali razionali che sono legate al sistema elettorale queste sono le caratteristiche veramente peculiari e originari di questo sistema politico che non ha pari e uguali in questo senso rispetto ad altri regimi ibridi più o meno simili le conseguenze noi abbiamo anche esaminato e qui finisco con la presentazione di questo sistema anche le dinamiche tipiche innescate da questo sistema ibrido con queste caratteristiche distintive quali sono le conseguenze prima di tutto in generale questo sistema autoritario non è come altri sistemi autoritari in virtù di questa peculiare ibridità ha una diciamo caratteristica di flessibilità cioè questa competizione limitata questo pluralismo limitato consente al regime di adattarsi alle diverse circostanze storiche economiche internazionali con una certa flessibilità cosa che un regime autoritario a tutto tondo farebbe più fatica a fare e questo anche diciamo spiega anche la lunga durata di questo regime ormai sono più di 40 anni no? che 40 anni che che in piedi e mostra una certa resilienza come si usa dire oggi no? è una resilienza legata alla flessibilità alla databilità a seconda delle circostanze emergono leader e politiche diverse sostanzialmente diverse c'è una flessibilità che è legata alle politiche ordinarie non costituzionali i regime i suoi fondamenti non vengono messi in discussione e non possono essere messi in discussione ma le singole politiche pubbliche sì le politiche economiche le politiche estere possono subire oscillazioni anche significative a seconda del leader e dello schieramento che vince le elezioni parlamentari e soprattutto presidenziali lì c'è una differenza che è simile con un range più limitato di opzioni ma simile a quello che avviene in tutte le democrazie diciamo liberal-democratiche questa responsiveness asimmetrica cioè rigida sul sistema politico nel suo complesso è invece più flessibile sulle singole politiche pubbliche sociali economiche e cosa via e anche di politica estera ha effetti sia positivi che negativi e qui concludo davvero positivi l'alternanza di coalizioni diverse e di leader diverse consente al regime di essere tendenzialmente inclusivo cioè di rappresentare interessi di volta in volta articolati ed eterogenei alcuni alcuni perdono alcuni vincono a seconda diciamo dei cicli politici ma tendenzialmente quasi tutti gli interessi sociali in gioco possono essere a meno potenzialmente rappresentati dalle politiche pubbliche e dalle istanze principali istituzionali presidenza e parlamento inoltre questa alternanza di leader e di coalizioni consente anche una valvola di sfogo rispetto a possibili rimostranze richieste proteste della società civile cioè la possibilità di individuare un leader più riformista di altri rappresenta un'opportunità per in qualche modo assecondare anche se solo parzialmente alcune istanze di cambiamento o di riforme in qualche modo che provengono dalla società civile cosa che è un sistema autoritario più rigide difficilmente consente e infine questo pluralismo limitato consente anche un monitoraggio più attendibile circa gli umori gli stati d'animo i problemi presenti nella società ci sono cioè dei terminali i leader gli schieramenti che si contendono il potere in Iran consentono anche di monitorare più facilmente quelle che sono le istanze diciamo nuove che di volte in volte emergono nella società e in qualche modo anche se parzialmente possono essere rappresentate le conseguenze negative quali sono invece che questo sistema di pluralismo limitato legato appunto alla peculiare natura ibrida del regime solleva aspettative a volte molto elevate di cambiamento soprattutto certi leader riformisti talvolta hanno dato l'illusione a componenti di opposizione della società di poter cambiare in modo più significativo di quanto non fosse realmente possibile la natura del regime e le sue politiche la sollevazione di queste aspettative quindi alimenta tendenzialmente una frustrazione tra le aspettative stesse è la realtà realmente fattibile date le condizioni comunque limitate di apertura politica che questo regime consente in ogni caso pur essendo un regime a pluralismo limitato ci sono dei paletti oltre i quali non si può andare soprattutto dal punto di vista degli assetti costituzionali e di alcuni aspetti legati al ruolo della religione siamo in ambito dei costumi e della vita civile dei giovani così via delle donne e così via quindi da questo punto di vista questo può creare delle tensioni cioè le aspettative frustrate come ci insegnano i maestri della sociologia e della scienza politica possono coltivare un rancore che può avere effetti alla lunga destabilizzanti per il regime mentre appunto il pluralismo limitato può assicurare una certa flessibilità poi oltre un certo punto questo elemento di frustrazione pensate a tutti i movimenti giovanili repressi poi alla fine nel sangue questo elemento di frustrazione può destabilizzare il regime e portare eventualmente a una transizione che non sta bene poi possa anche sfociare se non un regime autoritario di tipo diverso oppure in una vera e propria liberal democrazia quindi facendo un bilancio ci sono sia elementi di adattabilità legata a questo regime sia elementi di invece di rigidità che possono portare anche a lungo termine a una sua crisi a una sua destabilizzazione in ogni caso per quel che riguarda la politica estera l'alternanza di schieramenti e di leader può consentire una certa flessibilità di policy e quindi anche un cambiamento di strategie soprattutto in relazione ai rapporti con gli Stati Uniti e l'Occidente per esempio l'insegnamento di Rouhani l'elezione di Rouhani ha rappresentato un tentativo del regime di aprirsi o comunque relativamente aprirsi verso gli Stati Uniti e l'Europa e diciamo l'accordo nucleare è stato un esempio poi Trump ha stoppato questo processo ma con qualche modo la presenza Rouhani ha una linea molto diversa rispetto a quella di Ahmadinejad questo dimostra come anche sulla politica estera il regime la sua flessibilità può riservare delle sorprese e portare anche a delle disegni strategici anche imprevedibili ex ante lascerei quindi la parola a Peshma per invece trattare poi le questioni di politica internazionale della Repubblica Islamica grazie dell'attenzione molte grazie al professor Kama penso ci abbia offerto una chiave di lettura molto interessante con questo tema del regime ibrido e con i suoi aspetti di flessibilità potremmo dire quindi di capacità di adattarsi è anche uno dei modelli al momento diciamo più longevi di compromesso tra la tradizione islamica interpretata in un certo modo e delle istituzioni anche più vicine come dire a quelle delle società occidentali quindi la domanda che potremmo rivolgere al professor Abdul Mohammadi è quanto questa natura ibrida del regime sia legata a una specificità anche nazionale dell'Iran quindi specificità anche della della Persia rispetto al resto del mondo arabo e quanto invece possa essere un modello di evoluzione per altri paesi islamici che invece storicamente hanno oscillato tra secolarismo e teocrazia per capirci adesso gli do volentieri la parola e sentiamo il suo parere prego grazie mille Michele innanzitutto lasciatemi ringraziare il Cespi per questa opportunità siamo molto contenti ringrazio il presidente Piero Passino per la sua presenza che ci fa molto piacere e il direttore Daniele Frigeri che ha insomma organizzato questo e in particolare te Michele perché senza insomma il nostro rapporto e questo insomma partnership che abbiamo a Trento come collega non avrei potuto insieme al professor Kama avere insomma questo contatto con il Cespi quindi siamo molto felici e contenti e ringrazio anche chiaramente le altre due relatrici che sono presenti a Sara Tappari e Viviana Mazza e sarò appunto seguo quello che il filo che mi hai dato Michele e anche quello che gentilmente Gian Piero ha tracciato e cercherò di essere breve così poi lascerò spazio agli altri relatori e relatrici e diciamo che assolutamente come sottolineavi l'Iran chiaramente ha una sua peculiarità che lo dimostra dal punto di vista dello sviluppo istituzionale e noi nel libro come Gian Piero Kama ha sottolineato nella prima parte trattiamo questa questa combinazione di cento anni centocinquant'anni di in qualche modo di scontro e confronto tra una visione più modernista e una visione più tradizionalista che in alcuni momenti come il 1906 porta alla prima rivoluzione costituzionale ricordiamoci del Medio Oriente che avviene appunto nella Persia poi abbiamo insieme a Ataturk negli anni 20 la nascita di questo primo stato moderno appunto persiano con Reza Shah Ahlavi dove noi appunto nel libro dedichiamo un pezzo importante dove spieghiamo appunto come l'Iran moderno nato sui fondamenti proprio del nazionalismo da un lato e del secolarismo dall'altro già è presente tra gli anni 20 e gli anni 40 la situazione cambia chiaramente dopo la seconda guerra mondiale la rimozione diciamo di Reza Shah da parte degli alleati in particolare e poi abbiamo appunto l'ultimo Shah di Persia Muhammad Reza Shah Pahlavi che è interessante il suo aspetto perché poi noi nel mondo europeo siamo un po' abituati insomma anche a dire era il grande dittatore il servo degli Stati Uniti e così via però poi noi abbiamo cercato con il professor Kama che è stato anche molto d'aiuto per la questione anche teorica proprio a lavorare sugli aspetti della modernizzazione come lo Shah aveva portato avanti e questo è innegabile una modernizzazione culturale e sociale importante ma non era accompagnata questa modernizzazione da una modernizzazione politica cioè nel senso che il pluralismo politico mancava mentre c'era un'altra parte appunto elementi secolar elementi sociali che andavano invece molto più veloci questo è uno degli elementi che abbiamo affrontato e che chiaramente hanno dato vita per pensare anche al processo di modernizzazione e urbanizzazione che avviene negli anni 60 e 70 in Iran fa sì che circa un milione e mezzo di iraniani grazie all'industrializzazione in corso lasciano i centri rurali e vengono nelle città soprattutto a Teheran che era chiaramente il centro della capitale iraniana e la maggior parte di questi erano chiaramente con visioni più tradizionali anche abbastanza islamiche conservatrici vivevano nelle periferie di Teheran e questa modernizzazione culturale per dire anche cosa abbastanza cioè le donne con le minigonne i cabaret non gli andava tanto bene e quindi nelle periferie una parte di questi nuovi lavoratori che erano lì grazie alla modernizzazione culturale ma che non accettavano comunque era uno shock culturale per loro vedere questo cambiamento veloce ecco la modernizzazione troppo veloce che stava avvenendo la sera questi lavoratori dove andavano? non è che andavano nei loro centri rurali andavano e non andavano neanche nei cabaret e nei bar andavano nelle moschee quindi si sedevano nelle moschee dove il re della moschee chiaramente è l'imam e lì si crea gradualmente un ceppo importante di potere sociale negli anni 60 e 70 attorno a quello che noi oggi conosciamo come l'islam politico in questo caso Shita che seguiva questi imam delle moschee che davano appunto sermoni parlavano e così via la fortuna dell'islam politico è che in quel momento riesce ad avere anche un leader carismatico come Gian Piero sottolinea che è l'Ayatollah Khomeini che in realtà è in un momento di vuoto all'interno dell'opposizione iraniana perché non dimentichiamoci che nel libro lo sottolineiamo che la caduta di Mossad Depp nel 52 53 quindi il colpo di Stato organizzato in buona parte dalla CIA ma soprattutto dal MI6 dell'epoca del MI5 dell'epoca che sono usciti anche documenti è molto interessante per gli archivi anche a leggerlo cioè il colpo di Stato organizzato contro questo diciamo sistema democratico che stava si stava creando in Iran apre uno spazio enorme a quelli che oggi chiamiamo gli islamisti cioè fino al 52 53 sono gli intellettuali laici i costituzionalisti sia di sinistra sia quelli liberali che hanno influenza nella società e spingono l'Iran verso un processo di democratizzazione ma è quando c'è il colpo di Stato Mossad Depp cade la caduta di Mossad Depp questo leader appunto nazional liberale che tra l'altro è molto interessante vedere che gli Stati Uniti lì fanno un calcolo sbagliato perché pensano che Mossad Depp possa diventare all'atto dei sovietici mentre Mossad Depp era tutt'altro che un comunista ecco quindi questo diciamo attacco che fa cadere Mossad Depp apre una prateria a quello che sarà la nascita della nuova generazione di intellettuali che non sono più i laici ma sono gli intellettuali islamici tra cui Ali e Shariati Ale e Ahmad ma adesso non voglio dire troppi nomi per non confondere comunque questi elementi che da un lato parlano di un islamismo sociale e quindi infatti Shariati promuove questo islamo-marxismo un po' simile al cattolicesimo comunista questa idea qui dell'islamo-marxismo che attirava molto i giovani del tempo quindi da una parte molti giovani sono attratti dall'islam ma quello degli intellettuali quello della cravatta perché Shariati si metteva la cravatta era moderno aveva studiato in Francia alla Sorbona e parlava di un islam moderno anche un po' marxista semmai mentre poi c'era la parte tradizionalista questi signori che lavoravano soprattutto a Teheran che seguivano il clero di cui la leadership ce l'aveva chiaramente la Yatollah Khomeini adesso non voglio andare molto più perché sulla rivoluzione del 79 c'è veramente da fare un seminario lunghissimo comunque questi sono alcuni degli aspetti che portano alla caduta dello Shah e alla nascita della Repubblica Islamica che non vanno trascurati non è che Khomeini nasce così Khomeini arriva a questa rivoluzione che poi diventa islamica perché all'inizio appunto una rivoluzione composta da forze di sinistra ricordiamoci il partito di Tudè anche il partito comunista le forze nazionali appunto quelle di Mossade e poi anche le forze islamiste ma le forze islamiste prendono il potere perché avevano l'organizzazione politica le moschee organizzate leader carismatico e soprattutto questi un milione e mezzo di lavoratori molto arrabbiati con la modernizzazione culturale dello Shah soprattutto e della disuguaglianza economica che si era creata questo porta all'arrivo di Khomeini ma ci vuole pochissimo tempo basta un anno o due anni che la maggior parte si pente perché in realtà nasce subito un sistema molto più di repressione e come sapete gradualmente prima il partito nazionalista poi quello liberale e infine quello comunista saranno messi alla purga e tutti quelli che hanno partecipato alla rivoluzione saranno pian piano eliminati questo è un punto che noi abbiamo messo in rilievo nella parte insomma istituzionale vado velocemente sulla parte di politica estera so che abbiamo poco tempo sulla parte di politica estera prendendo spunto a quello che Gian Piero sottolineava che la nostra teoria insomma che abbiamo elaborato col British Journal un po' di anni fa sul regime ibrido della Repubblica Islamica noi possiamo vedere la proiezione di questa diciamo politica interna nella politica estera cioè il dualismo della politica estera noi la possiamo vedere anche tra la differenza che c'è tra il governo quindi il presidente Rouhani il ministro degli esteri Zarif e dall'altra parte la guida suprema i Pasta Aran che loro rappresentano la parte islamica mentre la parte repubblicana più è rappresentata appunto da questo governo la politica estera del governo in questo momento da Zarif e Rouhani può essere più vicina al mondo occidentale mentre con Ahmadinejad può diventare appunto più vicino al mondo sudamericano o comunque politiche estere diverse meno pro diciamo occidentale più vicina alla Russia o alla Cina particolarmente la Cina ricordiamoci che adesso la Cina è uno dei più importanti partner della Repubblica Islamica quindi questa ibridità interna della Repubblica Islamica si repercuote anche a livello esterno e questo è molto importante anche sia da parte dei paesi dell'Unione Europea sia da parte degli Stati Uniti e altri attori globali e sottolineare questo perché quando noi abbiamo l'Unione Europea o paesi europei o gli Stati Uniti che trattano con per esempio il ministro degli esteri Zarif stanno trattando con una parte di questo regime duale cioè c'è un regime duale da una parte abbiamo tutto questo corpo diplomatico che usa il codice diplomatico ma poi c'è l'altra parte che è connessa alla parte appunto islamica della Repubblica che sono per esempio i Pasteran o gli IRGC abbiamo visto un esempio importantissimo l'accordo nucleare firmato poche settimane dopo c'è il missile mandato dai Pasteran sopra scritto in ebraico morta a Israele chiaramente qui vediamo il doppio allora noi nella politica essere abbiamo cercato anche di parlare di questo aspetto qui e di come la Repubblica Islamica fino al 2003 ha concentrato la sua politica estera più su una questione di consolidamento e anche più a livello macro sull'islam politico come elemento principale della politica estera ma dal 2003 in poi grazie all'attacco fatto contro Saddam Hussein quindi il regalo che gli Stati Uniti in qualche modo ha fatto la Repubblica Islamica facendo cadere un altro attore importante che era quello iracheno in quel momento dopodiché andando avanti con le cosiddette primavere arabe quindi la caduta di regimi e l'indebolimento di regimi della regione in particolare quello della Siria ha aperto una prateria per la Repubblica Islamica di focalizzare nella sua politica estera su quello che è il sectarianism il sistema settario cioè focalizzare la politica estera più che sull'Islam politico in generale sull'utilizzo dell'Islam politico sciita quindi sulla confessione sciita e questo l'abbiamo visto in Iraq quindi il penetramento in Iraq è stato molto importante dopodiché l'abbiamo visto in Siria quindi l'avvicinamento e la penetrazione in Siria che era indebolita a seguito delle rivolte interne siriane e poi infine l'abbiamo anche vista nel caso dello Yemen che era ancora più importante dove si è riuscito un posto strategico come lo Yemen sebbene non ci sono ancora delle prove diciamo forti di trovare connessioni ma sicuramente come una lunga mano con gli Houthi nello Yemen e a un certo punto dal 2003 al 2017 nella parte estera del libro noi sottolineiamo come la Repubblica Islamica raggiunge una influenza importantissima in quello che abbiamo chiamato più o meno anche alcuni altri colleghi l'hanno sottolineato il cosiddetto triangolo Shida o la coalizione Shida dove la Repubblica Islamica riesce a influenzare dal Mar Mediterraneo Siria e Libano con il Hezbollah chiaramente fino all'Iraq quindi Mesopotamia arrivando anche fino diciamo al Golfo Persico e lo Yemen sotto l'Arabia Saudita quello poi che è diventato la causa della guerra del 2015 2016 come controreazione fatta dall'Arabia Saudita coalizione con gli Emirati e altri stati arabi del Medio Oriente quindi questa è la parte più sulla politica estera che abbiamo cercato di sottolineare la politica duale estera molto importante perché Zarif è da una parte o un altro ministro degli esteri e IRGC e Pasteran sono dall'altra parte quindi anche la flessibilità non è solo interna è anche estera e questo è importantissimo per attori globali che trattano quella Repubblica Islamica perché se non sia presente questo si può cadere in fallo come ultimo aspetto che penso sia stato anche questo molto importante c'è un proprio capitolo dedicato alla opposizione iraniana e soprattutto alle nuove generazioni nel senso che noi abbiamo dedicato una sezione del libro su quello che è il post-generational i millennial iraniani cioè gli iraniani che sono nati prima un anno prima e quelli dopo la rivoluzione e quindi ci sono almeno due o tre generazioni oggi sono sotto i 42 e i 45 anni al massimo e quindi c'è soprattutto quelli nati dal possiamo dire dal 90 in poi ma anche 97 98 che è una generazione molto interessante per il nostro studio che abbiamo fatto che ha sviluppato dal 1997 in poi fino al 2020 21 e non dimentichiamo il 2019 poi concluderò sottolineando quello sono sicuro che Rassau parlerà meglio di quello anche e cosa succede? Noi abbiamo questa diciamo nuove ormai generazioni iraniane che dopo 42 anni di imposizione dell'ideologia islamica e soprattutto quella scita da parte della Repubblica Islamica ricordiamoci le scuole i primi 20 anni molti di questi ragazzi dovevano andare a scuola rasandosi i capelli a zero per entrare nelle scuole non potevano andare con i jeans perché era un simbolo occidentale non potevano chiaramente avvicinarsi alle ragazze perché venivano presi dalla polizia etica tutto questo tipo di impalcatura ideologica indottrinata è stata messa sotto sfida da questa nuova generazione che secondo secondo alcune prove interessanti che abbiamo sia scientifiche ma anche sociologiche ha sviluppato in buona parte una reazione che si focalizza da una parte sul nazionalismo ma un nazionalismo persiano o comunque non islamico che va a e questo che Michele appunto probabilmente mi voleva sollecitare concludo con questo che va a ripescare dei elementi simbolici pre-islamici per esempio a pensare alla Persia pre-islamica Persepolis Pasar Gad Ciro Ciro il Grande Zoroastro cioè noi abbiamo questa nuova generazione che esce fuori con queste importanti anche insomma collane con l'elemento di Far Bahar che è un elemento antico persiano e lo usa in contrapposizione con l'elemento islamico che gli è imposto in quel momento dal regime pensate che i loro padri invece erano al contrario scendevano in piazza e dicevano Allahu Akbar Dio è grande alla islamica e andavano a contestare un regime laico c'è totalmente il contrario d'altro canto il secolarismo non è solo fondato sul nazionalismo e c'è anche molte richieste di secolarization di secolarismo pensare alle donne che è la cosa più importante la battaglia delle donne per il velo per andare contro l'obbligatorietà del velo che non è una questione come sapete tradizionale iraniana il velo è stata impostata dopo imposta scusatemi dopo la rivoluzione della Repubblica Islamica quindi no perché lo dico perché a volte abbiamo alcuni politici o politiche soprattutto che mettono il velo vanno in Iran dicendo che rispettano la tradizione dell'Iran in realtà lì non è un rispetto della tradizione ma accettare un diktat del regime alle stesse donne iraniane questo è molto importante distinguere questo fatto quindi c'è all'epoca dello Shah prima noi avevamo donne che si mettevano il velo e donne che non se lo mettevano il velo perché ci sono molte donne musulmane puoi concludere esatto che si mettono il velo invece altre che non se lo mettono quindi la cosa molto interessante è questo aspetto che a un certo punto abbiamo queste donne iraniane che sfidano la questione del velo e abbiamo avuto ragazze dei mercoledì che vanno in piazza si tolgono il velo e poi vengono arrestate e messe in qualche modo in prigione questo è un aspetto molto importante che abbiamo sottolineato che è un po' il revival del nazionalismo e del secolarismo concludo qui grazie mille Michele soprattutto grazie al Cespi e poi se ci sono domande ci divertiamo a parlare grazie mille grazie al professor Abdel Mohammadi già una domanda la può trovare nel chat lascio a lui la lettura ma voglio dare subito la parola alla nostra prossima relatrice Rassag Gaffarisse ho capito bene si pronuncia così e chiedo scusa può scegliere la pronuncia italiana che preferisce benissimo ringraziando per aver accettato il nostro invito come dicevo in apertura è una giovane studiosa di sociologia esperta in particolare in questione di genere ma anche intergenerazionali che ci dirà qualche cosa sul rapporto tra stato e società civile in Iran e penso che quello che ci ha appena detto il professor Abdel Mohammadi sull'importanza della società civile anche di queste diverse generazioni possa essere ulteriormente approfondito prego io inizio ringraziando voi per l'evento e per l'invito ringrazio gli autori anche gli altri di Scassan sono particolarmente contenta perché in questi tempi che sono sempre più accelerati e frenetici non abbiamo sempre occasione per fermarci a leggere e riflettere sui lavori delle colleghe dei colleghi soprattutto se non fanno parte del nostro settore disciplinare nello specifico quindi sono felice di aver avuto l'occasione di poter leggere e ragionare questo volume molto interessante io tra l'altro faccio parte di questa generazione nata negli anni 90 di cui Pejman stava parlando quindi qualcosa che 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 mi è abbastanza familiare io voglio ricollegarmi a quanto gli autori hanno scritto e anche detto sulle forme di partecipazione politica in Iran e del rapporto fra Stato e società attraverso la lente delle proteste popolari degli ultimi anni quello che andrò a fare è guardare ad alcuni episodi di proteste di senso alcuni episodi di quelle che vengono chiamate contentious politics che considero significative perché ci permettono primo di andare oltre una lettura tradizionale di questi fenomeni come delle semplici manifestazioni dello scontro fra tradizione modernità o Stato contro società civile gli autori spiegano bene nel libro come l'Iran ha in parte risolto questa dicotomia in una maniera originale e secondariamente ci dimostrano come sia lo Stato sia la società iraniana si sono profondamente evoluti col tempo abbiamo l'ingresso di nuovi attori nella sfera sociale abbiamo anche modalità di mobilitazione che sono cambiate se guardiamo ad esempio alle proteste più recenti da parte delle donne o anche ai giovani per l'appunto anche se può sembrare apparentemente controituitivo e paradossale data questa natura autoritaria del suo sistema politico in realtà la Repubblica Islamica ha molta familiarità con le manifestazioni di proteste e di scontento proteste che includono un'ampia panoramica di stanze richieste che vanno da maggiori libertà politiche civili al malcontento per la mancanza di giustizia economica e sociale letta da questa prospettiva anche le ultime ondate di proteste di cui andrò a parlare non costituiscono in realtà dei fenomeni nuovi non a caso Hamid Abashile ha definito le proteste del 2019 come parte di una insurrezione autentica e coerente che è strutturalmente radicata in Iran contro le difficoltà economiche come i professori Kama Abdelmohamadi giustamente evidenziano molte di queste mobilitazioni in realtà si sono sviluppate dentro degli spazi di partecipazione politica che sono sorti in seno alla Repubblica Islamica stessa sono in qualche modo frutto di spazi interstiziali di circostanze che lo Stato stesso ha creato grazie alla sua flessibilità un sistema politico che comprende al suo interno una varietà di diversi attori politici e sociali che perseguono ciascuno i propri obiettivi e interessi e per capire quali sono questi interessi qual è il loro ruolo all'interno dell'Iran contemporaneo penso sia fondamentale guardare a come queste mobilitazioni sono cambiate nel corso del tempo quali sono le interazioni fra questi gruppi e quelli che Morgana ad esempio chiama le nuove traiettorie di resistenza anche perché il rischio sennò è di cadere in delle rappresentazioni un po' stereotipate della società iraniana di dipingere da una parte o come totalmente rivoluzionaria occidentalizzata o al contrario come apatica e incapace di mutamenti politici ho pensato di partire soffermandomi su quell'episodio di contentious politics che forse per il pubblico italiano è più familiare ovvero il cosiddetto movimento verde del 2009 John Bechesab del 2009 tra il 2009 e il 2010 in seguito a questa controversa rielezione del presidente Mahmoud Ahmadinejad l'Iran ha assistito alle più ampie dimostrazioni di protesta sin dalla rivoluzione del 79 per alcuni queste proteste simboleggiavano unicamente il desiderio di veder riconosciuto il loro voto per il candidato sconfitto Mirosem Musavi mentre per altri esprimevano una resistenza ad un'identità politica ovvero quella repubblica islamica così come costruita da Ahmadinejad e Khamenei e un desiderio di cambiamento politico democratico o all'interno della cornice della repubblica islamica o addirittura al di fuori da essa diverse letture tra cui anche quella degli autori riconducono questa impressionante mobilitazione popolare ha degli spazi di partecipazione politica che sono creati sin dal cosiddetto periodo riformista un periodo di riformismo di segno sostanzialmente liberale che è nato all'indomani della fine della guerra con l'Iraq e che aveva come parole chiave democrazia pluralismo e società civile ma che contemporaneamente attraverso un processo di disciplinamento sociale e politico andava ad aprire e restringere gli spazi di partecipazione a suo piacimento e che è andato così facendo anche a causare la disillusione e la radicalizzazione che hanno reso possibile anche la carica rivoluzionaria del 2009 un punto che mi preme sottolineare è la confusione che spesso sorge quando parliamo di chi ha fatto parte di questo movimento chi ha partecipato al movimento verde è senza dubbio vero che questo è stato il frutto di richieste sociopolitiche di tutta una serie di attori che noi possiamo ascrivere alla classe media urbana una classe media che si era espansa notevolmente nei vent'anni precedenti proprio grazie a queste trasformazioni sociali ed economiche promosse dallo Stato e dal periodo riformista di cui abbiamo parlato è una classe media che forse non si accontentava più degli spazi di partecipazione che le erano stati concessi e che venivano rinegoziati dall'alto tuttavia penso anche che dovremmo essere cauti nel descrivere questi manifestanti come appartenenti a un segmento ristretto della popolazione che è sconnesso dal resto della società in risposta ad alcuni commenti che bollavano queste proteste come espressione solamente della borghesia urbana sempre Amid Abashi nel suo libro The Green Movement in Iran scriveva si domandava come è possibile definire parte della borghesia urbana tutti quei milioni di giovani iraniani che magari hanno anche un'istruzione molto elevata ma che sono disoccupati e che non riescono ad entrare nel mercato del lavoro formale le proteste a Teheran infatti almeno nel loro apice iniziale avevano creato una coalizione molto ampia che oltrepassava i confini di classe anche se comunque è vero che i legami più forti sono rimasti con appunto la classe media voglio chiarire un punto per non essere fraintesa ovviamente anche la classe lavoratrice anche i lavoratori sono interessati e vogliono diritti civili e politici tuttavia storicamente almeno in Iran la classe media si è mostrata spesso ostile ad alcune richieste avanzate dai lavoratori come per esempio mettere un freno alla privatizzazione tradizionalmente questa classe media vede più di buon occhio la riduzione del ruolo del governo e dell'economia sostiene la liberalizzazione del commercio delle importazioni e delle esportazioni anche l'adesione all'organizzazione mondiale del commercio misure invece che i lavoratori percepiscono come un pericolo per i propri interessi c'è un economista Mohammed Maljou che provocatoriamente diceva un paio di anni fa che la classe media in Iran è solo apparentemente rivoluzionaria in realtà ha paura di una rivoluzione e laddove la vuole la vuole sulla scena politica anche in questo caso deve essere graduale riformista mentre in termini economici si dimostra conservatrice e non domanda la fine della mercificazione della forza lavoro oppure dell'ambiente se ci spostiamo avanti invece nel tempo e andiamo a guardare le proteste avvenute tra la fine del 2017 e il 2019 vediamo come queste sono profondamente diverse dal 2009 sia nella forma sia soprattutto nella sostanza alla fine del 2017 abbiamo avuto delle proteste esplose per un nuovo aumento dei prezzi che sono partite da delle aree più periferiche e che con il 2018 si sono poi estese anche alla capitale e ad altre città maggiori con scioperi degli autisti dei lavoratori ad esempio dell'AFKP e questa industria dello zucchero se le confrontiamo con il 2009 queste mobilitazioni non ci sembrano coordinate sono più radicalizzate sono prive di una leadership e di figure simboliche anche se sono spinte e cavalcate comunque dalle elite conservatrici che cercavano di boicottare in qualche modo il governo di Ruani a cui però sono sfuggite di mano e sono manifestazioni in cui hanno partecipato per lo più individui delle classi più povere infatti si sono manifestate non solo nei quartieri commerciali ma anche nelle zone più piccole non tanto nella capitale quanto più in città periferiche analogamente le proteste del 2019 che sono state le più estese fino a questo momento e in cui ho sentito qualche tempo fa che sono state anche le prime in cui è stato utilizzato l'artesce l'esercito per reprimerle in queste proteste invece il causus belli diciamo che è stato un incremento del prezzo del gasolio attuato dal governo Ruani che è andato poi allargandosi ad una critica più ampia della sua leadership e che ha coinvolto un ampio spettro di attori come insegnanti operai gente comune delle città più piccole del sud cosa molto interessante anche le province del Huzestan e Kurdistan che sono a maggioranza araba kurda laddove invece il movimento verde aveva attecchito principalmente nelle aree esclusivamente di lingua persiana per comprendere queste manifestazioni penso sia necessario guardare alle implicazioni delle politiche neoliberiste che sono state introdotte dopo la fine della guerra che sono state rafforzate fine della guerra intendo quella con l'Iraq nel 1980 rafforzate poi da Ahmadinejad e rilanciate di nuovo dal governo Ruani negli ultimi anni il cui risultato è stato anche un taglio di molti sussidi sociali e una crescente privatizzazione dell'economia in questo caso è possibile anche tracciare una linea di continuita storica con diverse serie di proteste avvenute negli anni 90 in risposta proprio a queste politiche di aggiustamento strutturale di privatizzazione implementate dopo la guerra sotto anche la guida del Fondo Monetario Internazionale in queste proteste protagoniste erano state le classi più povere molto spesso con gli stessi diseredati che la rivoluzione iraniana aveva promesso di riscattare con i mostazafin che la rivoluzione voleva risollevare ma che poco il tempo sono diventate loro malgrado degli elementi indesiderati di disturbo infatti anche nel 2018 e 2019 la maggior parte dei manifestanti proviene da quelle che possiamo definire una nuova classe media impoverita una classe precaria fatta di giovani ci dicono le statistiche che la maggior parte dei manifestanti che nel 2018 sono stati imprigionati aveva addirittura sotto i 25 anni dei giovani molto spesso istruiti che però sopravvivono grazie a lavori precari a sussidi grazie all'aiuto delle famiglie nelle aree più marginali e più povere delle grandi città e che sognano una mobilità sociale che oggi più che mai nella società iraniana è difficile hanno un desiderio di riscatto di salari ed opportunità migliori sono quella generazione che il professore ha citato prima e che Hamid Davassi sempre ha definito come privi di riferimenti ideologici ben delineati come poteva essere magari la generazione precedente che ha fatto parte del movimento riformista e poi dell'onda verde ma che ciò non di meno costituiscono oggi i nuovi protagonisti della street politics iraniana voglio concludere citando alcuni punti che trovo fondamentali per riconoscere qual è la rilevanza politica di questi eventi cosa ci possono dire del rapporto fra Stato e società sebbene sia vero che anche durante queste ultime proteste abbiamo sentito sempre i soliti slogan contro il Rahbar la guida suprema contro la Repubblica Islamica in queste ultime proteste la prima istanza fondamentale non sembra essere una caduta del regime o una riforma politica anche se questa è un'interpretazione che va molto per la maggiore ma ci sottolineano una crisi che la Repubblica Islamica sta affrontando e che si manifesta nell'ampio numero di motivi di insoddisfazione che esistono oggi c'è un sociologo che è Mohamed Faseli che ha descritto il panorama iraniano come pieno di quelle che lui chiama i Bohdegone Nomid i perdenti senza speranza in pratica una scena in cui chiunque ha perso qualcosa la classe media ha perso quelle aspirazioni con lo stile di vita che aveva che aveva desiderato aver raggiunto durante gli anni del riformismo del boom dopo la guerra i poveri hanno perso invece qualsiasi possibilità di ascesa economica queste proteste ci parlano anche di una frammentazione sociale e politica che la rivoluzione che la Repubblica Islamica sta attraversando e che è visibile anche nel modo in cui le persone si mobilitano e si organizzano diverse ricerche ci suggeriscono come l'attivismo politico in Iran oggi è sempre più spontaneo e autonomo ed è staccato da organizzazioni politiche strutturate e soffre anche di una frattura generazionale importante in secondo luogo le proteste ci permettono di superare quel discorso secondo cui è la classe media urbana sempre l'unica attrice legittima in grado di innescare dei cambiamenti politici e sociali secondo l'economista iraniano Moser Anani la classe lavoratrice comprende oggi qualcosa come 17 milioni di individui ed è quella che in questi 40 anni di Repubblica Islamica ha subito le deprivazioni più importanti quindi non ci deve sorprendere se proprio da questa fascia sociale possono emergere delle nuove istanze di cambiamento infine queste proteste penso che ci insegnino anche l'importanza di superare la lettura di questi eventi come una mera contrapposizione fra una società giovane moderna vibrante trasgressiva contro uno stato tradizionale repressivo spostando l'attenzione sulle modalità invece con cui gli iraniani stanno rinegoziando il loro rapporto con lo stato spostando l'attenzione su quali sono le spinte a protestare oggi e soprattutto di quali trasformazioni interne di natura demografica economica e sociale sono segnalatrici io qua avrei andrei avanti ancora per qualche ora ma mi fermo e vi ringrazio per questo tempo che mi avete dato grazie grazie molte a lei per questo spaccato interessantissimo della società civile iraniana che ci ricollega a quello che diceva prima il professor Kama proprio in apertura su un sistema che come dire da un lato è molto flessibile da un lato però produce sacche di risentimento che sono appunto molto importanti questo ruolo dei giovani è un tratto molto interessante bene abbiamo mi pare avuto un bellissimo appresco della questione Iran dal punto di vista politico istituzionale politica domestica politica estera dalla società civile ora concludiamo con due interventi sul fronte diciamo invece dell'Italia e l'Iran come questo paese è visto da noi e come è importante per noi e do subito la parola a Viviana Mazza ringraziando per aver accolto il nostro invito come dicevo il giornalista dei Corriere della Sera non solo inviata speciale in Medio Oriente ma anche studiosa con Mazza Columbia e autrice di numerosi libri per cui una voce autorevole e interessante su questo tema grazie e a lei la parola grazie a lei grazie a Cespi per avermi coinvolta grazie a Peshman che conosco da tempo e sono felice di conoscere insomma le altre le altre persone il suo coautore Gian Piero Cam ma anche Rasa Gaffari e vi ho ascoltati con molto piacere e allora siccome è sempre difficile parlare di se stessi mi avete chiesto di parlare di come la stampa segue la stampa italiana segue l'Iran allora l'ho saputo circa un'ora prima dell'incontro allora ho cercato di portarmi qualcosa che fosse oggettivo e allora sono andata nell'archivio nel nostro archivio degli ultimi tre mesi che raccoglie cioè l'archivio che uso come al giornale e che raccoglie in realtà diciamo articoli che vanno da insomma Corriere, Repubblica la stampa da Famiglia Cristiana il Tempo il Messaggero il Foglio il Manifesto Libero Giornale Avvenire però vi dico anche Ecoli Bergamo però ci sono anche degli articoli El País Guardian eccetera ve lo dico perché negli ultimi tre mesi ho trovato 1237 articoli che portavano con la parola cercano con la parola Iran però ci sono anche degli articoli chiaramente stranieri quindi non so dire quanti esattamente di questi siano italiani comunque di stranieri soltanto il País El Guardian e l'Economist e allora però poi guardando questi articoli notavo che in realtà molti in realtà non parlano veramente di Iran cioè parlano dell'Iran nell'ambito comunque di una geopolitica in cui quello che veramente interessa è gli Stati Uniti la Cina come si stanno muovendo e gli equilibri appunto di geopolitica mondiali e l'Iran in questo modo è chiaramente moltissimi di questi articoli cioè moltissimi di questi articoli poi sono proprio soltanto di striscio sull'Iran quelli che invece si occupano di più di Iran se ne occupano nell'ottica ovviamente negli ultimi tre mesi di Biden in che modo sarà diverso da Trump ci sarà questa apertura poi dopo il passaggio a forse insomma questa apertura difficile quindi proprio si vede il passaggio ma gli articoli non sono tanti perché in molti giornali hanno registrato magari l'apertura io per esempio ho intervistato Rob Malley che è l'inviato americano per l'Iran che è stato scelto la Repubblica ha intervistato il vice ministro degli esteri iraniano che era diciamo in un momento di apertura però diciamo che non c'è un'attenzione costante e guardando una cosa che mi ha sorpreso è che in questa assenza di un'attenzione costante poi però trovi magari su alcuni giornali le brevi è una breve che ti dice ti dà un'informazione che però secondo me è molto difficile da contestualizzare per chi non avendolo letto in quel giornale magari non sa che cosa sta succedendo e quindi effettivamente magari appunto delle piccole informazioni su non so ne avevo insegnata qualcuna l'Iran colpito il nostro cargo è azione di terrorismo tre righe però appunto non ti spiega il contesto in cui questo sta succedendo e che cosa veramente significa oppure la IEA ritira la condanna all'Iran ed è spiegato in quella breve non è semplice però è chiaro che diciamo c'è una non c'è ovviamente una tensione costante e questo non sorprende chiaramente voi che vi occupate di questo tema che insomma lo sapete meglio di me c'è molta attenzione ai diritti umani quello è un altro dei grossi temi che si ritrova ai casi soprattutto delle donne dei diritti umani quindi il caso di Nazanin Zagari Ratcliffe per esempio ma anche casi della campionessa di taekwondo fuggita in Germania che ora compete alle Olimpiadi cioè le donne iraniane e i diritti umani sono un tema che ai giornali italiani piace molto non solo ai giornali iraniani però diciamo a volte insomma sia giornali di destra sia giornali di sinistra per esempio o di centrosinistra insomma riprendono il caso per esempio dell'elenatrice della nazionale dell'Iran che non va ai mondiali di sci a cortina ho trovato anche un'intervista non vi dico chi l'ha fatta a Golshith Farahani l'attrice iraniana in cui si parlava di cultura araba anziché persiano iraniana per cui diciamo esistono ancora questi questi strafalcioni ci sono pochi articoli ma qualche volta si trovano che cercano che rispetto a quello che voi raccontavate cioè comunque un Iran anche visto dal suo interno nei suoi rapporti di potere che magari cerca di guardare agli ayatollano diciamo e quelli i teologi della rivoluzione del 1979 che stanno morendo e chi si sta sostituendo a loro oppure la generazione nuova dei Pasdaran che stanno emergendo in che modo sono diversi da quelli della generazione di Ika Sam Soleimani quindi qualche articolo di questo genere c'è ma sono chiaramente una grande eccezione e però adesso cioè questo è un po' il quadro che c'è però adesso volevo anche cioè mi ha fatto riflettere anche un po' sulla mia esperienza perché io seguo l'Iran da quando sono al Corriere e quindi dal 2006 circa e sono andata per il Corriere in Iran la prima volta nel 2009 e ci sono stati diciamo dei momenti in cui l'Iran è stato all'attenzione anche della stampa italiana e i fenomeni di cui voi parlavate sono stati notati e seguiti in una maniera molto molto migliore secondo me di quello per esempio che avviene negli ultimi tempi i giovani in piazza nel 2009 ma anche durante le elezioni presidenziali spesso le elezioni sono un'occasione per i giornalisti italiani per avere accesso al paese perché parte del problema è che non c'è una presenza costante in Iran dei giornalisti italiani non abbiamo una sede di corrispondenza e di conseguenza questo rende più difficile il lavoro di raccontare veramente un paese dall'interno e la conseguenza non è soltanto questa la ragione però diciamo è una delle ragioni per cui spesso secondo me si tende a raccontare l'Iran più dal di fuori che dal di dentro però quelle occasioni in cui i giornalisti vanno in Iran per quanto comunque con delle limitazioni perché comunque noi abbiamo sempre un interprete con noi registrato con il ministero quindi comunque ci sono delle regole nell'ambito di cui ti muovi però effettivamente è un accesso incredibile e si vede come la copertura cambia io adesso non ho avuto il tempo di andare a prendere gli articoli di quei periodi lì ma sono assolutamente diversi e lo so per esperienza personale a proposito di quello che prima diceva Ressa Gaffari una cosa che è interessante è proprio questa appunto attenzione alla classe media urbana è quello che noi vediamo come giornalisti molto spesso come giornalisti occidentali e una delle mie esperienze è stata di incontrare una regista la società iraniana Firosekos Rovani che ha fatto anche dei film dei documentari molto belli uno dei quali per esempio racconta la società iraniana attraverso due ragazze una di Teheran Nord una di Teheran Sud cugine eppure estremamente diverse per religiosità per una serie di aspetti anche di rapporto anche con la famiglia con le istituzioni e lei mi disse voi giornalisti italiani dovete cercare di parlare con questa parte della società molto di più perché altrimenti rischiate di raccontare sempre la stessa storia e soltanto una parte di questa storia certo questo presuppone chiaramente un accesso al paese che non sempre c'è non solo per problemi insomma per ostacoli di visti eccetera ma anche per il modo insomma in cui il nostro giornalismo sta anche cambiando cioè gli inviati i servizi sul campo si stanno sempre più riducendo rispetto al passato e questo rende le cose più difficili un altro aspetto che secondo me influenza molto la copertura mediatica è che ci sono tantissimi Iran sia all'interno dell'Iran sia all'esterno dell'Iran è impossibile trovare due iraniani che la pensino allo stesso modo e ci sono tantissimi gruppi di interesse di pressione molto attivi che vogliono dire la loro e la loro opinione su come stanno le cose e che spesso in quanto giornalista o ti contattano oppure sono disponibili a parlare a raccontarti e questi vanno da gruppi considerati terroristici dall'Iran in passato anche dall'Europa come Mujadine il popolo a ONG a televisioni iraniane con sede in Gran Bretagna chiaramente antiregime a media di Stato e a diplomatici anche iraniani che sono l'uno diverso dall'altro nell'approccio ai giornalisti come peraltro racconta molto bene spiega molto bene Pejman nel suo libro e questo chiaramente crea un effetto sul giornalista e l'altra cosa che mi ha fatto pensare è che c'è questa idea dei giovani contro il regime è un grande stereotipo un grande diciamo che anche in parte è un suo fondo di realtà però è chiaro che c'è questa realtà ma ci sono anche molte più complessità che riesci a scoprire a capire soltanto se passi del tempo in un paese complesso come l'Iran ci vuole tanto tempo bisogna tornarci più volte bisogna veramente e secondo me sono pochi comunque i colleghi italiani che ne conosco alcuni che hanno lavorato all'Iran per una vita che parlano anche la lingua alcuni di loro e che effettivamente siano anche si pongano e cercano costantemente di porsi in una posizione non ideologica per affrontare quella che era la realtà che poi fa parte del nostro lavoro però è una cosa estremamente complessa quindi queste sono alcune delle cose che mi sono un po' venute in mente a proposito della mia esperienza personale e mi scuso se il lavoro scientifico di riportare effettivamente qual è la copertura mediatica è soltanto molto parziale molte grazie a Viviana mazza ci ha dato uno spaccato molto interessante di come la stampa italiana guarda questa realtà e non solo a questa realtà e anche per cui vorrei dire quanto è importante anche il lavoro del CESPI penso insomma proprio nella contribuire a dare degli strumenti di lettura di queste realtà a un'opinione pubblica più vasta e soprattutto ai professionisti poi e agli operatori darei la parola ora al presidente Passino abbiamo avuto uno spaccato di come la stampa italiana guarda l'Iran gli chiediamo come la politica italiana guarda l'Iran e anche quali sono i rapporti sia dal punto di vista storico che gli interessi che il nostro paese ha in questa regione così importante prego va bene intanto io desidero ringraziare ovviamente il CESPI per aver promosso questo incontro e soprattutto coloro che abbiamo ascoltato il professor Kama Basman Abdelomadi la professoressa Gassari e Viviana Marza perché ci hanno offerto un quadro dell'Iran che va come dire che destituisce molti stereotipi in molti luoghi comuni molte letture semplificate credo che questo sia il primo diciamo esito positivo di questo confronto cioè chi ha ascoltato questo confronto ne sa certamente di più di quanto ne sapeva prima di ascoltare questa trasmissione questo incontro punto primo punto secondo credo che questo confronto così ricco debba continuare e quindi debba continuare e quindi io penso che il CESPI debba trovare il modo di come dire proseguire nella opera di indagine di ricerca di conoscenze di socializzazione sull'Iran lo sta già facendo in modo egregio su un altro paese chiave cruciale complesso come la Turchia credo che sia utile farlo si discute oggi noi viviamo un tempo nel quale i temi diciamo dell'agenda globale della politica internazionale le azioni internazionali entrano molto di più nella nostra vita di un tempo però entrano spesso secondo schemi molto semplificati per esempio una serie analisi di quelli che sono considerati paesi critici penso la Turchia penso l'Iran penso la Russia è assolutamente essenziale per cercare di capire quali sono le dinamiche che muovono quei paesi e le dinamiche nuove che investono gli equilibri internazionali detto questo prima di venire alla cosa che richiamava che mi ha chiesto Nicoletti cioè i rapporti con l'Italia io voglio dire alcune cose sulle cose che ho ascoltato la prima cosa che noi dobbiamo riuscire a fare come dire radicare è una cosa scontata ma non così ovvia stiamo parlando stiamo parlando di un grande paese cioè di un grande paese non tutti i paesi del mondo sono grandi paesi non tutti hanno la storia che ha questo straordinario paese insomma è la Persia di Ciro di Dario di Cerse è una grande civiltà che che a un certo punto si incontrò perfino parliamo di tantissimi secoli fa con la civiltà romana che arrivò fino ai confini della Persia ha segnato la storia per secoli di una scusate evidentemente c'è un'emergenza che cosa è successo è una trasmissione dimmi va bene va bene adesso te lo mando va bene va bene senti allora dicevo che ho rubato per un'emergenza allora dicevo un grande paese e quindi si parte intanto da questo dato bisogna un grande paese che come tutti i grandi paesi ha un'ambizione un'ambizione di essere riconosciuto come grande paese questo è un punto che noi spesso sottovalutiamo quando tu ti riferisci a una realtà devi sapere con che realtà interloquisci e quando devi a che fare con un paese che ha la storia spessa ricca complessa che ha diciamo l'Iran devi sapere che fa i conti con un paese che nel suo vissuto nella sua antropologia nella coscienza del suo popolo negli elementi diciamo nel modo in cui si rapporta al mondo nelle sue relazioni internazionali si presenta come un paese come un grande paese che ha una ambizione ha delle ambizioni tanto è vero che l'Iran in termini di politica estera gioca un ruolo di potenza regionale e non solo e vuole essere riconosciuto guardate è lo stesso problema che abbiamo la Turchia con la Russia grandi paesi che diciamo in primo luogo ti pongono questo problema di essere riconosciuti come grandi paesi e noi spesso facciamo l'errore di non considerare questa loro aspirazione quando hanno chiesto a Putin ma lei a chi si riferisce ha detto Pietro il Grande non so se è chiaro e Erdogan ha una strategia neottomana che dice vogliamo tornare laddove siamo stati per secoli cioè sono due modi di porsi di questi paesi possono essere giusti o sbagliati li possiamo condividere o no possiamo considerarli pericolosi o no perché evidentemente poi vanno fatte delle valutazioni ma devi partire intanto da come loro pensano se stessi e come tu sei in grado di vedere come loro si pensano perché questo è un punto decisivo quindi stiamo facendo stiamo ragionando di un grande paese stiamo ragionando di un paese molto interessante tutto quello che è stato detto profondamente duale duale dal punto di vista sociale campagna città duale dal punto di vista storico la cultura persiana e la successiva diciamo la sovrapposizione poi per secoli ovviamente della cultura islamica duale dal punto di vista del rapporto diciamo con la vita nel senso che la dualità è tra integralismo e modernizzazione no un'altra dualità che percorre no tutta la storia della Persia e che ritroviamo in ogni fase storica è stato molto interessante per esempio il riferimento che si è fatto a come ha fatto il professor Abdel Amari a come la modernizzazione dello Shah in realtà ha prodotto una contraddizione tra sia di classe sia di cultura sia di identità significativo così come il professor Kama ci ha come dire portato dentro la dualità del sistema politico del sistema istituzionale per cui è un paese ibrido diciamo così non solo dal punto di vista politico è ibrido dal punto di vista culturale è ibrido dal punto di vista sociale è ibrido dal punto di vista politico e questo carattere ibrido diciamo ne caratterizza tutti i passaggi via via nel tempo da come fu letto e rovesciato Mossadegh a tutta la vicenda dello Shah dell'epoca della modernizzazione alla rivoluzione comunista che all'inizio come è stato ricordato fu una rivoluzione in realtà contro lo Shah e diciamo il rapporto che la persia dello Shah aveva con gli Stati Uniti in particolare ma no e tutto tutto questo cosa rappresentava ma la rivoluzione vide appunto il Tudè Banisadr i comuniste cioè era in realtà una coalizione molto complessa e molto larga che poi via via si è persa con il prevalere della dimensione islamico-integralista l'emarginazione di Banisad che infatti ce ne andò a Parigi lo scioglimento del Tudè la repressione via di quello che sappiamo ecco quindi un paese che ha questo carattere questa identità ibrida con cui fare i conti un paese che gioca un ruolo di potenza regionale triangolo uscita un paese guardate che non bisogna mai dimenticare sta in una delle regioni chiave della della storia del mondo perché basta vedere chi sono i paesi ai confini con l'Iran sta in quelle aree che una certa politologia definisce le cerniere del mondo dove si incontrano i mondi dove si incontra oriente occidente dove si incontra nord e sud dove si incontrano culture civiltà religioni storie e dall'incontro si determina spinte ovviamente diverse dal cosmopolitismo modernizzante all'integralismo conflittuale è evidente quindi facciamo i conti con un paese così e io credo che abbiamo bisogno sempre di più di rappresentarlo così quindi io colgo quello che ha detto molto chiaramente la dottoressa Mazza cioè in realtà noi sulla stampa italiana e quindi nell'opinione pubblica italiana che si informa attraverso il sistema mediatico dell'Iran parliamo per il tema del nucleare per il rapporto con gli Stati Uniti per il rapporto con Israele no? Ma sono queste le tre chiavi di lettura non si va molto all'idealità di questo nella comunicazione mediatica di che cosa sia la società iraniana come sia composta così complessa come dentro questa società iraniana maturino i fermenti di cui ci ha parlato Rasa Gaffari anche con le differenze tra il 2009 e il 2019 e via di questo passo di tutto questo c'è una rappresentazione molto molto epidermica è molto come dire stereotipa e quindi io penso che questo dibattito ci consegna diciamo per chi è interessato ci consegna come dire una responsabilità quello di agire e lavorare per una rappresentazione per una conoscenza dell'Iran una sua rappresentazione che sia più complessa e ne colga tutta l'articolazione nella ricchezza che non significa vorrei essere chiaro fare sconti a tutte le contraddizioni ai limiti e diciamo ai problemi che quel regime pone cioè un conto è riconoscere la specificità di un paese altro conto è in nome di un relativismo culturale sbagliato pensare che qualsiasi cosa vada bene no tu devi essere capace di capire un paese tutte le sue articolazioni le sue diversità le sue specificità e poi devi anche essere in grado di valutare fino a che punto quelle specificità sono accettabili in rapporto a valori universali oppure no questo è del tutto è del tutto è del tutto evidente detto questo l'Italia è un paese che con l'Iran ha storicamente rapporti intensi Mattei no fu diciamo l'artefice di una strategia di relazione con l'Iran che ruppe il monopolio delle sette sorelle ci ricordiamo e con l'Iran Mattei aprì diciamo la strada di un rapporto tra l'ente nazionale petrolifero italiano e il mondo diciamo i paesi produttori prima l'Iran poi l'Egitto infine l'Algeria no che ha segnato evidentemente profondamente sia i rapporti tra i due paesi quindi noi siamo stati come dire siamo stati quelli che hanno aperto la strada di un rapporto tra occidente e Iran nuovo rompendo appunto quel monopolio delle sette sorelle che guardava al Medio Oriente soltanto in termini di sudditanza e di controllo del diciamo delle materie prime e dunque dei sistemi politici in funzione del controllo delle materie prima in particolare della materia prima petrolifera quindi l'Italia ha diciamo una storia molto particolare di rapporti con l'Iran e con diciamo lo scacchiere medio orientale questo rapporto si è consolidato poi in una presenza economica significativa pensiamo a tutti gli investimenti fatti dalle grandi compagnie italiane a Bandare Bass tanto per fare un esempio alla presenza appunto di tutte le principali major italiane da Lansaldo a Fincantieri a Finmeccanica all'Enel all'Eni che hanno nell'Iran e al seguito di questo negli ultimi vent'anni anche un certo numero di imprese non piccole perché è un mercato molto difficile ma di medie dimensioni che si sono andate situandosi situandosi in quel mercato quindi un rapporto forte è evidente che questo rapporto economico forte che ha quelle radici fa sì che anche sul piano politico il rapporto tra l'Iran e l'Italia sia un rapporto diverso rispetto ad altri paesi occidentali diciamo sia un rapporto più dialogante sia un rapporto più aperto sia un rapporto meno caratterizzato appunto da diciamo quegli elementi di conflittualità che invece la storia consegna per esempio tra l'Iran e la Gran Bretagna per fare un esempio o tra l'Iran e gli Stati Uniti per stare a storie più più recenti è stato ed è molto importante l'accordo che si è fatto a suo tempo il CIPCOA per diciamo governare e controllare diciamo l'ambizione nucleare iraniana sappiamo bene come poi questo accordo è stato diciamo terremotato dalla politica di Trump e come oggi Biden cerchi di riallacciarlo cosa non semplice non semplice perché in questo rapporto con gli Stati Uniti e con la comunità internazionale ovviamente pesa quel dualismo di cui ci ha parlato il professor K tra chi in omaggio ha un approccio più istituzionale è pronto come dire a collocare l'Iran dentro un sistema di relazioni internazionali e chi invece in nome di un approccio più integralista più combinato con un'ambizione di potenza tende ad affermare un atteggiamento più conflittuale una cosa che di cui è stata sfiorata che varrebbe la pena in un successivo incontro approfondire sono due aspetti il rapporto dell'Iran con la Russia perché questo è un punto che è sempre stato storicamente importante la presenza la presenza per un lungo periodo di un forte partito comunista che era il Today era ponte di un rapporto tra Russia e Iran che in certe fasi è stato un rapporto significativo e poi il rapporto con la Cina con l'altro grande player asiatico quindi perché ovviamente avendo l'Iran l'ambizione di giocare un ruolo di potenza regionale e collocandosi in una regione strategica è chiaro che diciamo la relazione con diciamo con Russia e Cina è un punto nodale l'altro punto nodale è la leadership del mondo shita nello scontro shiti sunniti perché tutta la grande area mediterraneo medio orientale è percorsa da questo conflitto tra shiti e sunniti e non c'è dubbio che l'Iran gioca il leader gioca il ruolo di leadership per il mondo shita e quindi il rapporto con gli asbollah iraniani il rapporto anche se Assad non è shita ma insomma il rapporto con la Siria il rapporto ambivalente con la Turchia perché con Erdogan i rapporti sono sempre ambivalenti diciamo perché è un cliente complesso comunque il rapporto ambivalente con la Turchia e l'ostilità frontale diciamo nei confronti del mondo sunnita e dei paesi leader del mondo sunnita l'Arabia Saudita da un lato l'Egitto dall'altro e in questo si inserisce diciamo ed è l'ultima cosa di cui voglio parlare se ne è parlato poco si inserisce poi questo tratto di fortissimo spirito antisemita e antisraeliano che caratterizza la leadership soprattutto quella più integralista diciamo dell'Iran che in realtà è come dire una carta che è giocata molto nello scontro tra sunniti e shiti perché l'accordo di Abramo che è stato sottoscritto negli ultimi mesi è un accordo tra Israele e il mondo sunnita è niente proprio da fare quindi è evidente che la vicenda israeliana si inserisce in questo conflitto però guardate questo è un punto molto delicato perché finché la leadership iraniana manterrà un profilo di ostilità così frontale brutale penso le dichiarazioni dei pazdarang nei confronti d'Israele eccetera nei confronti israele questo è come dire un ostacolo rilevante a una normalizzazione di relazioni con l'occidente rilevante probabilmente questo lo sa benissimo la leadership iraniana fino adesso ha deciso di mantenere questo profilo però è chiaro che finché se ne mantiene questo profilo la difficoltà è molto grande molto grande e quindi questo è un punto non banale della della politica della politica iraniana grazie davvero ci avete arricchito moltissimo avete ci avete dato elementi di conoscenza di straordinari interessi e proprio per questo dico il Cespi deve continuare a lavorare sull'Iran perché questa serata dimostra che c'è ampia materia per lavorare insieme grazie grazie al presidente Fassino mi pare che ci abbia offerto degli elementi molto importanti non solo di richiamo generale all'importanza dell'Iran sulla scena internazionale ma anche di ricostruzione dei rapporti tra il nostro paese e l'Iran stesso e abbiamo fatto un po' più tardi del previsto e quindi mi spiace aver dovuto sacrificare lo spazio delle domande e spazio delle domande e delle risposte ma Fassino ci ha rilanciato la palla per una prosecuzione dei nostri lavori diciamo di una di un lavoro ulteriore di analisi e quindi penso che ci sarà possibilità in quella occasione io direi se volete una battuta di pochi secondi però anche avete visto forse in chat qualcuna delle risposte mi chiederei di scegliere un tema e una battuta di 30 secondi in modo che così ci possiamo anche salutare e ringraziare anche da parte vostra le persone che ci hanno seguito e magari aggiornare ad un futuro appuntamento io darei seguirei il percorso inverso chiederei magari a Viviana Mazza per cominciare se vuole una breve reazione da parte sua anche rispetto alle cose che ha sentito ma io ho visto che c'era una domanda diretta a me ma ho visto che la persona è andata via quindi a questo punto risparmi il vostro tempo e vi dico che se la conoscete perché ho questa sensazione di passare il mio email e magari ne parlo con lei e quindi diciamo lascio lo spazio insomma agli altri relatori grazie molte grazie allora chiedo al direttore Frigeri di farsi da mediatore bello questo poter continuare il dialogo anche in altra forma darei la parola a Rassag a Fari grazie io ne approfitto per ringraziarvi ancora per avermi dato questo spazio quello che magari mi sento di aggiungere è che ho apprezzato molto che questo spazio anche una parte della stampa che ha saputo riflettere anche criticamente su quelli che possono essere i problemi di rappresentazione dell'Iran nella stampa soprattutto italiana che molto spesso soffre di soffre di tutti quei problemi anche di cui Viviana ci ha parlato di accesso al campo di accesso alle fonti e su cui però non è sempre disposta a ragionare quindi ho apprezzato molto questa sua prospettiva rinnovo il mio ringraziamento e la mia stima a tutti i presenti grazie anche a lei penso che questo sia un'indicazione importante anche per nel CESPI capire come organizzare anche delle cose mirate proprio agli operatori della informazione perché diciamo ci sono degli incontri rivolti in generale a tutti gli interessati alla politica internazionale però proprio sulla base delle cose che ci sono state dette potrebbe essere utile capire quale 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 tipo di incontri possono essere anche più utili per gli operatori dell'informazione professore abdolmohammadi ha avuto qualche domanda in particolare se questa proiezione esterna dell'Iran ha a che fare con stato evocato anche dal presidente Fassino da vocazione impero persiano oppure diciamo ha un desiderio della componente sciita di declinare la propria versione islamica nel senso di una comunità musulmana più ampia universale una battuta su questo sì diciamo che sicuramente ci sono due anime una parte appunto uscita come il presidente Fassino sottolineava che l'Iran ambisce e continua ad ambire ma c'è anche la parte persiana che più lo scià portava avanti quindi quello è molto di meno in questo momento però nel complesso queste due anime questo dualismo anche un po' manichieo che alla fine proviene dalla Persia è molto è molto importante io ringrazio tutti e anche sulla questione politica estera Cina e Russia secondo me è molto importante vedere come l'Iran si muoverà con la Cina e Russia o l'Unione Europea sarà in grado di avere qualche spazio in più perché c'è molto bisogno di un EU magari anche più forte grazie tante professor Nicoletti per questa ottima insomma iniziativa e questa opportunità e ringrazio tutti i relatori i colleghi il presidente Fassino e anche soprattutto insomma il Cespi nel suo complesso grazie di nuovo al professor Kama una battuta finale mi pare questo tema del ruolo dell'Europa quindi non solo dell'Italia ma dell'Europa nei confronti dell'Iran sia anche molto interessante su cui si potrebbe lavorare prego assolutamente io penso che tanto complimenti a tutti i relatori che sono intervenuti oltre ovviamente il mio collega che conosco bene ma non conoscevo gli altri devo dare complimenti a tutti anche che ha centrato un punto secondo me cruciale più di uno a dire il vero ma quello iniziale è fondamentale capire che la Pesce è un'antica civiltà una tra le più antiche del mondo ha un notevole orgoglio di se stessa giustamente e vuole essere in qualche modo riconosciuta nel suo status non solo come potenza regionale ma anche come grande tradizione culturale religiosa che ha influenzato anche moltissimo l'Occidente molte religioni diciamo diciamo che noi professiamo in Occidente il cristianismo ma anche lo stesso sono state influenzate in origine dalla religiosità persiana che hanno avuto un'influenza enorme pensate solo a Sandro Magno all'ellenismo come è stato contagiato dalla civiltà persiana noi siamo debitori grandissimi di questa civiltà quindi bisogna rispettarla e riconoscere questo ruolo e l'Europa deve capire e chiaramente deve diciamo in qualche modo essere all'altezza della complessità di questo paese che è molto articolato emerso anche dalle riflessioni della collega Rassa no? cioè anche socialmente una società complessa articolata in cui anche le proteste non hanno un'unica direzione un'unica diciamo strategia e spesso quello che manca in Iran dal punto di vista di non possibile ne parliamo spesso col professor Peshman è la mancanza di una direzione strategica in relazione alle forze di opposizione manca una leadership una struttura organizzativa che potrebbe accompagnare il paese a una transizione verso un regime più aperto verso l'esterno meno diciamo foriero di tensioni internazionali quello che diceva a proposito del fascino dell'antisemitismo è un problema e chiaramente una correzione di rotta del regime un cambiamento anche parziale del regime potrebbe attenuare questo diciamo attitudine antisemita e revisionista no? a secondare anche meglio le legittime ambizioni di un paese che è una cerniera tra l'Asia dell'Europa lo è ancora di più forse della Turchia da questo punto di vista e quindi dobbiamo avere una particolare attenzione verso l'evoluzione politica interna e internazionale dell'Iran perché avrà un ruolo comunque cruciale per i destini futuri del sistema internazionale noi compresi come europei ovviamente perché siamo molto vicini a questa realtà quindi penso che sia necessario ulteriormente indagare questa complessità e essere all'altezza di questa sfida quindi ringrazio davvero a tutti dell'invito è stato molto interessante devo dire mi farebbe piacere replicare un'altra volta questa nostra discussione affrontando i temi su cui ci ha sollecitato anche l'onorevole Fassino i rapporti con la Cina con la Russia e così via grazie davvero a tutti di cuore grazie grazie ancora e questo tema degli imperi è un bel tema ricordo qualche anno fa una relazione del direttore degli istituti di studi strategici Moshe Dayan di Israele che diceva se volete capire qualche cosa cancellate dalla vostra testa la carta geografica degli stati nazionali e mettete al suo posto la carta geografica degli antichi imperi l'impero persiano l'impero ottomano l'impero dell'Uzzar e forse riuscite a capire qualche cosa di più di quello che sta succedendo e poi questo tema che appunto ha aperto l'onorevole Fassino la grande elezione della Ostpolitik di Willy Brandt per parlare di una è stata quella di dire cerchiamo di capire quali sono le legittime aspirazioni dei nostri interlocutori in politica estera perché solo quando riusciamo a porci dal punto di vista del del loro punto di osservazione riusciamo a trovare anche dei punti di dialogo naturalmente questo non vuol dire che tutti siano accettabili come talvolta accade con disegni magari appunto neoimperialistici ma ci consente di comprendere la loro prospettiva grazie ai relatori e relatrici grazie a tutti coloro che ci hanno seguito abbiamo dovuto comprimere un po' la discussione della parte finale ma speriamo davvero di poter proseguire in qualche forma questa riflessione grazie al CESPI per il supporto che ci ha dato e ci rivediamo allora speriamo in una prossima occasione grazie arrivederci arrivederci a tutti arrivederci di cuore grazie a tutte arrivederci